Una sola scelta. Presidente, ma siete presenti anche a Firenze? Certamente, Gigi. E a Torino? Ovviamente. E a Bologna? Assolutamente, Gigi. E allora siete presenti anche? Siamo presenti in tutta Italia e in Europa, a Bedumio. Che meraviglia. Allora sto tour, facciamolo insieme. Amorinne. Fisili by Car in tutta Italia.